Ieri Natalia Maria Goretti di Venuta Santa, oggi tra i borghi più belli d'Italia e cuore laborioso della Valle del Nevola. 601 imprese attive, 90 a totale partecipazione giovanile, attive per lo più nel settore alimentare, costruzioni e moda. Ecco Corinaldo nella fotografia scattata dalla CNA che vi ha fatto tappa con il Cerca Marche, l'iniziativa in partnership con la Camera di Commercio che mette in rete cittadini, imprese e amministratori locali, creando una faccia a faccia direttamente dalla business community www.cercamarche.it. Attenzione particolare agli ultimi bandi emanati dalla Regione Marche, Manifattura e Lavoro 4.0, Turismo e Strutture Ricettive e Commercio. Per informazioni an.cna.it. Abbiamo parlato di tre bandi importanti, uno legato al commercio che scadrà a brevissimo, un intervento per le attività anche dei centri storici, ma cosa più importante abbiamo parlato di un bando legato alla manifattura e al lavoro con importanti fondi destinati a questo settore, parliamo di circa 11 milioni d'euro, un bando che scadrà naturalmente all'usarimento di risorse, ma quello che per Corinaldo è anche più importante forse è quello legato al turismo. C'è un bando legato alle strutture ricettive con un contributo di circa 2 milioni d'euro che scadrà a fine ottobre, ma ci dicono che sarà prorogato e verranno destinate ulteriori risorse. Quindi un bando legato alla ricettività, alla valorizzazione del nostro territorio, cosa molto importante anche per un comune come Corinaldo. All'incontro anche il sindaco Matteo Principi che parla di confronto su più tematiche. Sono tante le occasioni da iniziative, da confronto e condivisione dei nostri bilanci comunali, da una programmazione proprio economica dell'ente a momenti come quello di questa sera, quindi anche informativo verso gli associati della CNA e quindi anche verso i nostri cittadini, la nostra comunità. In sala diversi imprenditori come Giordano Natalucci, attivo nelle progettazioni meccaniche. Facciamo questi lavori su richiesta di altre aziende, quindi ci può essere utile questo Cerca Marche ai fini anche di migliorare quello che possiamo fare noi. Prossimo appuntamento del Cerca Marche il 4 ottobre alle 18 a Castelfidardo e il 5 ottobre alle 18.30 a Loreto. Informazioni su www.n.cna.it www.n.cna.it